ariete chi vi ferma in questo periodo nessuno chi vi ferma è perduto allora in molte occasioni siete proprio voi a riversare sulla persona di sempre sensazioni e pregiudizi che l'altro non ha però ricordate che questo cielo è estremamente attivo nella vostra vita amplifica le situazioni magari anche quelle di disagio ed ecco perché tanti nati sotto il segno della rieta in questi giorni stanno facendo presente in maniera anche piuttosto ostinata quello che pensano certo avere un oroscopo del genere porta anche una sorta di impeto verbale fisico che non tutti accetteranno ma siete fatti così prendere una scena toro prima di fare gesti azzardati passi sbagliati aspettiamo la metà di questo mese perché dal 16 parte una fase diversa per la vostra vita a volte in questi giorni vi siete trovati vi troverete sconcertati e confusi ma dovete vivere la vostra vita tra le mille emozioni che esaltano anche la vostra amabilità che vi rendono più affascinanti persino quando vi arrabbiate è un cielo che comunque crea qualche piccolo malinteso in amore ricordo quello che scriveva Harry Miller confusione una parola che abbiamo inventato per un ordine che non comprendiamo forse proprio questo il problema bisogna fermarsi un attimo e ragionare su quelle che sono le cose più importanti da fare e da organizzare in vista del cancro non dovete lasciarvi dietro rimpianti o dubbi in questo momento quello che conta è la vostra serenità anche perché siete di fronte ad una nuova fase che chiude le questioni aperte da molto tempo e giove anche se per poche settimane vi dà più luce quindi molti noteranno soprattutto quelli che hanno la possibilità di ottenere un riscontro diretto del proprio lavoro che ci saranno delle cose in più diciamo maggiori consensi se vi fidate di questa dolce venere che vi guarda con un sorriso potrebbero nascere grandi opportunità anche in oggi leone provate a prendervi altro tempo per voi vi piacerà e soprattutto piacerà alle persone che vi sono vicino e che hanno bisogno del vostro supporto morale e spirituale non sempre ce la possono fare da soli vergine bisogna pensare a quello che di buono c'è da fare entro il 16 di questo mese siete nel bel mezzo di un mare agitato e dovete mantenere la vostra rotta difendere le vostre radici proprio voi che siete un segno di terra quindi conta il vostro passato conta anche quello che avete creato fino ad oggi e che forse qualcuno sta minando in realtà guardando le stelle del 2023 ma anche di dicembre saranno poche le persone che vi metteranno in imbarazzo tuttavia devo ricordare che se ci sono degli squilibri in amore o sul lavoro tra il 16 e il 30 di novembre potrebbero ripresentarsi ecco perché sarebbe opportuno fin da ora cercare delle soluzioni importanti comunque siete sempre bilancia sabato e domenica sono state giornate particolari qui vi chiedo la luna opposta ha avuto diciamo effetto nel senso vi siete trovati come avevo indicato contro una persona l'importante è che voi torniate in armonia con il vostro mondo con il mondo esterno le nuove responsabilità pesano ma vi rendono anche estremamente attivi ricordiamo che per molti bilancia una vita equilibrata tranquilla può essere soprattutto durante la gioventù una meta importante poi nel tempo si capisce che invece si vorrebbe affrontare un'esistenza più avventurosa insomma i bilancia ora stanno cercando delle emozioni diverse rispetto al passato questo può essere bello ma comportare anche di scorpione adesso sì che possiamo contare su emozioni importanti tutte le esperienze che avete fatto nelle ultime settimane grazie ad un viaggio grazie ad un incontro grazie ad una lettura grazie ad un nuovo interesse sono importanti e tra l'altro dal punto di vista lavorativo anche se c'è stato un ritardo nel presentare un certo progetto programma presto si arriverà a capo di una situazione decisamente valida chi ha cambiato gruppo ruolo non dico che si è pentito ma probabilmente entro la primavera del prossimo anno cercherà un nuovo sagittario non escludo che queste siano giornate di lotta in realtà avreste bisogno di qualche emozione in più però l'amore mi sembra un po' spento quantomeno c'è una situazione che è lontana dalle vostre esigenze e sul lavoro c'è qualche blocco potrebbe essere anche di tipo fisico diciamo che bisogna acuire l'intuizione la capacità di generare qualche bella emozione in modo tale che si possa superare in maniera più serena un periodo che vi vede un po' agitati c'è persino qualche sagittario che pensa di voler cambiare tutto gruppo ruolo la vita sempre uguale non vi piace ma per il momento non si può cambiare capricorno superato il disagio la stanchezza del fine settimana ricordate che vi troverete di fronte a un lunedì martedì molto importanti quindi ancora per questa domenica vi chiedo pazienza ricordiamo anche che decisioni e novità che riguardano il vostro mondo interiore la vita privata saranno più facili da tirare fuori entro la fine di dicembre oggi evitate il nervosismo con i parenti con il coniuge con i figli attenzione nelle dispute tra genitori e figli in realtà in questo momento la stanchezza si fa sentire acquario questo stato di profonda tensione deve essere tenuto sotto controllo fino al 16 novembre ve l'ho già detto l'astrologia ha questo merito diciamo ti dice quando è il momento di muoverti e quando invece è il momento di osservare secondo me l'acquario adesso dovrebbe capire quello che sta accadendo senza fare delle azioni che potrebbero diventare sbagliati senza attivare delle polemiche quale navigante affronterebbe con la propria barca un mare in tempesta nessuno e quindi se in questi giorni le onde sono alte è meglio non imbarcarsi in qualche stupida polemica o prestare il fianco a persone che non meritano attenzione questo vale un po per tutto lavoro amore pesci continuo a vedere delle grandi opportunità in questo oroscopo sarà la seconda parte di novembre a togliere qualcosa poi però dicembre regalerà emozioni veramente molto importanti state cercando di ritrovare un buon equilibrio quindi è normale vivere settimane sì e settimane meno importanti ma più ci avviciniamo al 2023 e più arriverà un bel equilibrio un buon ottimismo che sbusserà tutte le spigolosità caratteriali emotive che ci sono state e che sono nate anche per difesa nel corso degli ultimi tempi quindi questo è un momento molto importante per tutti coloro che desiderano vivere una passione o rimettersi